Grazie a tutti. Intendimenti della Giunta per monitoraggio rischi, prevenzione e interventi a favore degli ospiti e del personale. Interrogazione a firma del Consigliere Bianconi. Risponde l'Assessore Coletto. Prego, Consigliere Bianconi. Grazie, Grazie Vicepresidente. La mia interrogazione ha come oggetto le persone anziane, non autosufficienti e maggiormente a rischio in questa pandemia. Le strutture residenziali e semiresidenziali e con loro chi vi opera. L'emergenza Covid è chiaro che in questi giorni, in queste settimane, sta subendo un'accelerazione impressionante. E lo stato ormai di grande difficoltà, in cui purtroppo si trova il nostro sistema sanitario e chi vi opera, è sotto gli occhi di tutti. Considerando che il tasso di mortalità Covid aumenterebbe in funzione dell'età e della precarietà fisica del paziente, affetto anche da altre patologie, considerando che al 29 ottobre erano stati accertati 234 positivi tra ospiti ed operatori delle RSA ed 11 RSA erano state colpite da Covid e che erano al tempo purtroppo tre le persone decedute e che gli ultimi dati ad oggi disponibili, quelli del 6 novembre, risulta da questi, che siano 339 positivi tra ospiti ed operatori delle RSA e purtroppo 6 i deceduti, si interroga l'Aggiunta per sapere se è stato riavviato il monitoraggio dei contagi e di test al personale nelle RSA e nei centri diurni, se sono stati previsti incentivi alla domiciliarità diretta e indiretta, quando possibile e solo se desiderata dal paziente e dalla famiglia, cosa è stato fatto per la prevenzione e la cura, l'adeguamento delle strutture e quant'altro possibile per la riduzione dei contagi tra gli ospiti anziani, dei non autosufficienti, del personale nei centri diurni, nelle strutture residenziali e semiresidenziali. Gradirei con chiarezza capire anche a quanto ammontano le risorse stanziate e quanto sarà fatto in più nei prossimi giorni, al fine esclusivo di tutelare i più deboli in questa pandemia. Grazie. Grazie, Consigliere Bianconi. Prego, Assessore Coletto. Grazie. Grazie, Presidente. Fin dalla prima fase pandemica, nei mesi di marzo, la Giunta regionale ha approvato atti che definivano il potenziamento dell'organizzazione della rete assistenziale e, nello specifico, della rete territoriale, con la presa in carico dei pazienti fragili in condizioni di aumentata vulnerabilità con associato un aumentato rischio di esiti negativi fino alla morte. L'identificazione di pazienti fragili nelle situazioni che hanno determinato e condizionano il trattamento della prevenzione sono state considerate la sfida principale per la sicurezza della comunità. Le strategie fin da subito si sono concentrate sull'individuazione dei casi fragili a domicilio, coinvolgendo i comuni e i servizi sociali, il medico di medicina generale e soprattutto il distretto. In particolare, per quanto riguarda le residenzialità e la semiresidenzialità, in ogni struttura è stato individuato un referente per la sicurezza Covid con il compito di seguire un corso di formazione online sulle procedure di prevenzione e l'uso di IDP, trasmettere le conoscenze a tutti gli operatori della struttura, vigilare che le procedure siano costantemente adottate, fungere da collegamento costante con il Coro. Tutti questi riferimenti per la sicurezza Covid, oltre 150 persone, sono stati adeguatamente formati mediante ripetuti cicli di videoconferenze. Sono stati inoltre prodotti delle checklist di autovalutazione sulle strutture di prevenzione dell'infezione da coronavirus, basate sulle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, mediante le quali i distretti hanno verificato in tutte le strutture l'adeguatezza delle misure intraprese. Nel caso di insorgenza in paziente ricoverato, ospitato in RSA o residenze protette di sintomatologia, il paziente viene immediatamente trattato come paziente Covid, scatta la segnalazione immediata all'ISP per riprogrammare i necessari test diagnostici di conferma e viene effettuato l'isolamento dell'ospite. Per questo le strutture hanno avuto indicazioni per la riorganizzazione interna del personale infermieristico e delle host di turno. La struttura deve organizzarsi anche per definire le zone di isolamento con accessi separati delle stanze e spazi comuni utilizzati dagli altri ospiti. Nel caso si renda possibile un efficace isolamento, il caso positivo dovrà essere trasferito presso una struttura Covid a bassa intensità assistenziale. Con atti di giunta sono state date linee di indirizzo sull'attività di gestione e sorveglianza sia per i pazienti ospiti che per il personale con obiettivo di contenere il rischio di trasmissione del virus e ridurre l'impatto sui servizi sanitari e sociali assicurando il mantenimento dei servizi essenziali. Gli atti, seguendo le varie fasi dell'andamento epidemico, hanno dato indicazioni operative e gestionali per le strutture residenziali e semiresidenziali. Su di esse viene effettuato un attento monitoraggio con check list specifiche. Si elencano i principali atti adottati nella prima fase della pandemia. Sono la DGR 207 del 25 marzo, la DGR 374 del 13 maggio, la DGR 467 del 10 giugno. Si sottolinea come in particolare le ultime due DGR avessero come finalità la progressiva ripresa dell'attività in sicurezza dopo la sospensione conseguente al periodo di lockdown. Al termine della prima fase emergenziale sono stati adottati i seguenti provvedimenti secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. DGR 310 del 5 agosto, piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale e la DGR 916 del 14 ottobre, piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale. Con questi due atti è stata data attuazione ai provvedimenti previsti dal decreto rilancio che in particolare prevede l'utilizzo di finanziamenti specifici per il potenziamento della sorveglianza e della presa in carico dei pazienti fragili sia a domicilio che nelle strutture che attraverso il reclutamento di personale infermieristico da impiegare in particolare nell'assistenza domiciliare e di continuità al fine di aggiungere lo standard previsto di otto infermieri ogni 50.000 abitanti. Le due aziende territoriali stanno lavorando per dare attuazione al programma pianificato a livello ragionale, fronteggiando il problema della scarsa disponibilità sul mercato delle figure previste. Per quanto riguarda la Regione Umbria, la ripartizione delle somme complessive dell'articolo 1 di commi 23456789, la quota d'accesso è dell'1,49, il riparto delle risorse sulla base della quota d'accesso sono 17 milioni, il riparto delle risorse sulla base di distribuzione delle apparecchiature e piattaforme centrali e operative sono 2 milioni e 8, un totale a ripartire di circa 20 milioni e 522 mila. Grazie. Grazie, Assessore. Consigliere Bianconi. La ringrazio, Assessore, per le informazioni che ha fornito a questa mia interrogazione. La inviterei, invito lei e la Giunta a cercare di tenere il più alto possibile il livello di controllo e di test da effettuare all'interno delle RSA e di tutti questi luoghi dove il rischio per gli utenti, per chi vi opera e per chi c'è dentro è altissimo. È dal controllo che si parte per costruire una gestione attenta per questi soggetti. Mi auguro che eventuali nuove risorse disponibili possano essere messe a disposizione a partire da queste fragilità che ci sono, che ci sono in questa nostra Regione, confido in un lavoro di squadra, in un lavoro più aperto e di cooperazione con tutte le forze di quest'Aula. Grazie. Grazie, Consigliere. Passiamo all'oggetto numero 18. Interrogazione a risposta immediata in merito alle misure adottate dalla Regione in favore delle imprese e delle aziende per l'emergenza Covid-19. Interrogante il Consigliere Fora, risponde l'Assessore Fioroni. Prego, Consigliere. Grazie, Presidente. Buongiorno alla Giunta. Buongiorno, Assessore Fioroni. L'interrogazione ha come oggetto la sfera di carattere economico che riguarda questa crisi, che è pleonastico riaffermare quanto sia importante, quanto lo fosse nei mesi precedenti, quanto lo sia e lo sarà purtroppo nei prossimi mesi a seguito delle ulteriori misure di contenimento che il Governo e le Regioni stanno affrontando in questi giorni. Misure che graveranno ancora di più nel nostro contesto produttivo, tra i nostri operatori economici, operatori che in larga misura non riescono oggi a pianificare neanche gli interventi da porre in essere, perché immersi dentro purtroppo una situazione che li costringe a prendere decisioni nell'immediato, a chiudere, a riaprire, dentro una precarietà che sta elevandosi in maniera straordinaria. Il Governo nazionale ha messo in campo nei mesi scorsi e da ultimo anche in questi giorni con il cosiddetto Decreto Ristori, misure straordinarie per far fronte ai mancati fatturati che colpiranno alcuni settori economici in particolari e alcuni indotti. E a fronte di queste misure ricordo come la Regione Umbria e anche questo Consiglio regionale abbia approvato nella riprogrammazione dei fondi strutturali una dotazione importante di fondi pari a 108 milioni di euro, fondi FESRE, fondi FSE, che sono una somma ovviamente che non basterà per far fronte a tutta l'emergenza regionale e sulla quale è evidente che deve, così come sta facendo, intervenire il Governo nazionale. Ma è altrettanto evidente quanto la Regione con queste cifre può fare delle cose importanti, soprattutto le può fare come era stato anche annunciato in Consiglio regionale ad integrazione e non in sovrapposizione delle misure effettuate e messe in campo dal Governo nazionale. L'auspicio, credo da tutti i condivisibili, fosse e rimane quello di porre in essere risorse regionali che coprano gli interventi lasciati più scoperti dal Governo nazionale. Ecco, a fronte di queste premesse, gli interventi che in questi mesi sono stati messi in campo dalla Regione, mi riferisco in particolare al fondo Prestiti Restarta, che era stato finanziato per 18 milioni, che è risultato totalmente insufficiente a coprire tutte le domande che sono pervenute, a fronte del quale la Regiunta ha fatto una successiva integrazione di 18 milioni. dai dati che ci risultano, ad oggi sono stati impegnati 28 milioni, che lasciano però di fatto oltre 3 mila domande non finanziate, anche dopo l'integrazione. La domanda e di conseguenza l'interrogazione, a fronte anche della richiesta evidente che in questo momento le imprese e gli operatori economici fanno, è quella di conoscere lo stato di attuazione delle misure messe in campo ad oggi, in particolare sul fondo Restart, se c'è la volontà di procedere a un ulteriore finanziamento delle oltre 3 mila domande che rimangono inattese e in evase ad oggi, e soprattutto qual è il programma di lavoro che la Giunta intende mettere in campo per utilizzare questo importante stanziamento di risorse di oltre 100 milioni di euro, rispetto ai quali ne sono stati impegnati decisamente una quantità ad oggi bassa, e per ultimo in che modalità si intende partecipare la scelta della programmazione degli interventi con le parti sociali. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Fioroni, a lei la parola. Allora, consigliere Fuora, la sua interrogazione è un contenitore così vasto che contenere la risposta nei tre minuti sarà molto difficile, e quindi io cercherò di limitarmi a rendicontare gli aspetti legati soprattutto agli assi finanziari già messi in campo alle misure. Il fondo Restart ha rappresentato a livello italiano un caso di eccellenza di misura di sostegno, copiato anche da altre regioni, e nel comitato delle finanziarie regionali è stato considerato come la dotazione più rilevante per rapporto, intervento, numero di abitanti e numero di imprese messe in campo da una regione. Il fondo in realtà è stato piuttosto performante nell'erogazione delle risorse, tenendo conto che ci siamo trovati ad affrontare alcune criticità, che era la verifica delle domande, il fatto che spesso a fronte delle domande che erano state, la richiesta di integrazione di materiale effettuata nei confronti delle aziende, i tempi di risposta delle aziende non erano veloci. Non a caso abbiamo attivato poi, verso la metà di agosto, l'introduzione di un termine inderogabile di dieci giorni, entro il quale le aziende che avevano ricevuto le PEC e erano state anche sollecitate da un call center che abbiamo ad hoc messo in piedi per sollecitare l'invio del materiale, potessero velocemente arrivare all'erogazione del prestito. Tenendo conto che anche in questo c'è stato un problema che abbiamo dovuto risolvere con Banca d'Italia relativamente alle centrali rischi. Detto tutto questo, noi oggi abbiamo in erogazione 19 milioni di euro dei 28, quindi ritengo che il tasso e la percentuale di erogazione sia piuttosto alta, tenendo conto che ci sono state una serie di posizioni per cui l'istruttoria è stata attivata, ma che sono state declinate. 304 per mancato rispetto del termine perentorio, 150 per DURC in regolari e ci sono state anche le case di aziende che hanno ritirato la loro richiesta. Ricordo ancora che lo strumento si presentava particolarmente rinnovativo perché metà di quel finanziamento poteva trasformarsi in fondo perduto per interventi a supporto proprio dell'attività, a supporto ad esempio degli investimenti da fare per attrezzarsi all'emergenza sanitaria oppure per fare investimenti di altra natura e questo più che mai si dimostra oggi come una visione piuttosto innovativa è unica anche su questo versante in Italia. Il fondo, come sapete, è stato rifinanziato. Per fare prima andremo a scorrimento in gradatoria. Su questo, quindi, abbiamo già iniziato a finanziare le imprese del secondo stanziamento e però, proprio per anticipare e per essere virtuosi nella velocità, ancora prima che quest'Aula approvasse il rifinanziamento del fondo, noi avevamo attuato l'istruttoria di alcune di quelle a scorrimento della gradatoria in maniera tale che fossimo in grado di dare... C'è un tema reale che è quello della comunicazione tramite PEC che vede spesso le aziende rispondere in maniera tardiva con la necessità di, magari con la difficoltà lato mobile, di aprire la posta e anche su questo noi ci siamo comunque attivati per contatti con il call center. L'obiettivo era cercare di aiutare le aziende non solo a metterci in condizioni di erogargli più velocemente le risorse. L'altro fondo che si è dimostrato per certi aspetti illuminante, non dico visioneare, ma illuminante, è il Bridge to Digital. Se oggi alcune delle attività maggiormente colpite sono in grado di mettere in campo soluzioni dalle piattaforme di delivery alla possibilità di gestire in maniera diversa l'attività di vendita, le piattaforme di commerce, oggi è anche grazie al bando Restart, su cui noi, al Bridge to Digital, un piano di tre milioni di euro che abbiamo messo a supporto delle piccole e medie imprese per efficientare la propria attività in ambito digitale. Quindi alcune delle piattaforme di delivery che oggi consentono ai ristoranti chiusi la sera di consegnare a casa nascono proprio anche grazie al finanziamento del Bridge to Digital. Anche su questo, sapete bene che si tratta di un finanziamento a rendicontazione, le imprese ad oggi finanziate sono 207 sulle 325 a messa al bando, anche qui abbiamo avuto in alcuni casi dei ritardi legati alla verifica della regolarità del DURC. In alcuni casi abbiamo dato tempo all'impresa di potersi regolarizzare perché ritenevamo proprio che questi investimenti sul DCI di Italia oggi più che mai fossero rilevanti. Delle altre misure, mi sento anche, non riguardano il mio assessorato, ma quello della collega Gabiti, l'avviso sull'impresa turistico ricettive con 8 milioni e 6 stanziati di cui 7 milioni e mezzo di risorse regionali con 285 domande pervenute, l'agenzia di viaggio con 103 imprese finanziate, insomma tutta una serie di strumenti che abbiamo messo in campo hanno avuto una certa efficienza ed efficacia nel modello di gestione. Qual è lo scenario futuro? Come abbiamo fatto l'altra volta è indispensabile cercare di mettere in campo quelle risorse che abbiamo e che hanno dei vincoli stringenti di bilancio perché sappiamo bene che gli strumenti che utilizziamo non sono legati alla parte corrente del bilancio ma all'utilizzo di fondi comunitari per la cui rimodulazione è necessaria una tempistica rilevante e quindi noi dobbiamo essere bravi di cercare di attivare questi fondi come se fossero vasi comunicanti perché pur non dovendo rinunciare all'ambizione di dover riprogrammare l'economia Umbra quindi a fare interventi che abbiano una prospettiva comunque di medio e lungo periodo la necessità di affrontare in questo momento l'emergenza ci pone già nella condizione di pensare a strumenti per il futuro non impulsivi perché comunque come abbiamo fatto l'altra volta abbiamo creato sempre degli strumenti innovativi complementare all'azione di governo cito la misura di patrimonializzazione che il governo ha costruito sul taglio superiore alla nostra con SACE e SIMES quindi la misura di patrimonializzazione con l'aumento di capitale sottoscriviti da 25.250.000 euro che è una misura complessa e che richiede ancora un po' di educazione culturale ma per cui sono arrivate già 15 domande cosa che non è irrilevante e quindi la visione del futuro richiede capire quale sarà il quadro corretto della crisi le modalità di intervento del governo senza fare polemica senza entrare nel merito del chi fa chi chi fa cosa la logica è capire qual è l'ambito di intervento delle misure nazionali e costruire degli strumenti che siano anche specifici di alcune criticità regionali soprattutto legati a una piccolissima dimensione dell'impresa a un basso livello di patrimonializzazione e al fatto che anche le aziende più strutturate in Umbria quello che avevano patrimonio sufficiente hanno intaccato le risorse patrimoniali che era un problema che noi avevamo chiaro nel quadro di riferimento fino ancora prima che ci fosse questa recrudescenza violenza della pandemia perché comunque nel momento in cui si sarebbe chiusa la finestra sui licenziamenti quindi il divento licenziale sapevamo che ci saremmo trovati ad affrontare uno scenario di crisi detto questo stiamo valutando e monitorando con attenzione quello che possiamo garantire è che le buone pratiche che abbiamo messo in campo sul restart sul bridge to digital sugli strumenti che velocemente e in maniera innovativa sottolineo il carattere innovativo perché comunque il fondo restart ricorda tutti che è un fondo che ha previsto investimenti a una quota parte di restituzione del fondo a fondo perduto che cosa vuol dire che comunque i ristoranti cito un esempio perché fra i finanziati del fondo restart il 9% hanno i ristoranti il 7% bar e pub che avevano fatti investimenti grazie al finanziamento ottenuto con il restart quel finanziamento comunque quando dovranno ripagarlo e parliamo fra due anni quindi 48 mesi perché c'è 24 mesi scusate perché c'è un preammortamento di 24 mesi dovranno restituire solo la metà del finanziamento ripeto lo schema è questo opportunità complementarità con le misure del governo valutazione del quadro e una parola chiave su tutto velocità e credo che su questo tema al di là delle criticità dell'essere soggetti vigilati della lentezza dell'impresa in alcuni casi di mandare il materiale qualcuno incomincia a riconoscerlo piuttosto un numero sempre più crescente di soggetti finanziati ci dicono che in questo bando hanno trovato uno strumento concreto veloce ed efficace di risposta per provare a fronteggiare l'economia la crisi economica sappiamo benissimo che lo scenario presenta tinte fosche ma noi saremo sempre sul pezzo per garantire le risposte più efficaci e più veloci a supporto del nostro sistema imprenditoriale grazie assessore consigliere Fora grazie all'assessore Fioroni per l'approccio istituzionale non polemico e costruttivo all'affrontare temi come questi quando finirà tutta questa tutta questa situazione io credo che dovremo fare tutti insieme un ragionamento importante che riguarda la semplificazione e in generale tutto ciò che ha a che fare con la macchina amministrativa e burocratica dei nostri enti pubblici per quanto apprezzabili gli sforzi risulta ancora totalmente insoddisfacente la possibilità che a fronte della una domanda che un'azienda in crisi fa a maggio mi pare possa essere iniziata a evadere a ottobre questo sappiamo che è molto poco politico il tema molto più legato alla semplificazione complessiva di questo nostro paese e quindi non imputo in questo caso evidenti responsabilità a questa giunta mentre invece chiedo e ecco ripropongo temi leggermente più concreti abbiamo ancora su un bando 3.000 domande in evase quindi siamo riusciti a soddisfarne non oltre il 30% credo che un impegno importante di questa giunta possa essere quello almeno di provare a contenere più domande possibili rispetto alle richieste pervenute per costruire la visione e il futuro avremo tutta la nuova programmazione europea credo che tutto ci sarà tranne che un problema di risorse economiche nei prossimi anni sui quali sarà importante metterci la visione mentre i fondi attuali pur con i vincoli di bilancio e le cose note che ci ha stamattina ricordato l'assessore Fioroni vanno spesi sull'emergenza quanto è più possibile e in più fretta e più velocemente possibile a una botta di conti mi sembra che siamo all'incirca a metà delle risorse che avevamo riprogrammato impegnate l'auspicio è che si proceda velocemente anche facendo scorrimenti di gradatori e degli strumenti già attuati che sono risultati positivi affinché in tempi veloci burocrazia permettendo si possa permettere di dare le risposte più immediate alla situazione di crisi grazie consigliere Fora passiamo all'oggetto numero 19 interrogazione sulla ristrutturazione e completamento della struttura denominata ex milizia al fine di destinarla alle cure e all'isolamento dei malati covid-19 in modo complementare all'ospedale di Terni intendimenti della giunta regionale al riguardo interroganti sono i consiglieri De Luca e Paparelli illustra il consigliere De Luca risponde l'assessore Coletto grazie grazie presidente ma le premesse contenute in questa interrogazione purtroppo sono saltate dal da quella che è stato l'aggiornamento che poi è avvenuto ieri con il passaggio da zona gialla a zona arancione quindi i dati che erano inseriti nelle premesse sono poi ulteriormente si sono ulteriormente aggravati io da quello che leggo dalla dashboard di Agenas l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali aggiornata a ieri pomeriggio ci troviamo al 58% di saturazione delle terapie intensive e secondi solo dopo la provincia autonoma di Bolzano dell'Alto Adige ci troviamo di fronte al 54% di saturazione del totale dei posti disponibili diciamo dei posti letto a fronte di un numero ecco questo lo leggo invece dai dati della regione 424 ricoverati a fronte del piano rispetto ai posti disponibili sostanzialmente non disponibili previsti dal piano di potenziamento che è passato anche all'interno di quest'Aula di 576 dei posti letto dedicati al covid quindi siamo sostanzialmente sempre più vicini dopo aver superato la soglia dell'erta siamo sempre più vicini a quella che è una situazione di collasso e quindi è necessario e doveroso intervenire utilizzando tutti quelli che sono gli strumenti a disposizione e questa nella mia valutazione nella nostra valutazione politica che abbiamo presentato con il consigliere Paparelli richiede in primo luogo l'utilizzo e la messa a disposizione di quelli che sono immobili che fanno parte del patrimonio della regione Umbria e delle sue articolazioni e delle sue aziende soprattutto se queste se queste strutture sono oggettivamente adeguabili con il dispendio di esigue risorse e con tempi estremamente brevi è chiaro che con questo tipo di intervento prima di soluzioni diverse che abbiano carattere diciamo tra virgolette temporaneo e straordinario su questo all'interno di questo quadro di riferimento la struttura dell'ex milizia è più conosciuta come il centro cellule staminali che nel corso di questi anni è stato interessato da una grella politica costantemente in merito a quello che è l'utilizzazione di una struttura di migliaia di metri quadri completamente diciamo attrezzata oltretutto con impianti fatti con addirittura una ipotesi diciamo di adeguamento era quella quella struttura era proprio completamente etonia a quel tipo di finalità non solo sotto il profilo diciamo di destinazione d'uso quindi come struttura sanitaria ma anche nelle finalità di biocontenimento nelle finalità di diciamo di 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 un'impiantistica etonia quindi anche la ricerca biomedica e quindi a nostro modo di vedere è necessario che seppur in ritardo si intervenga subito per mettere a disposizione questa struttura nelle finalità che sono più idonee noi con questa interrogazione non è che chiediamo la destinazione specifica che oggettivamente deve essere individuata da quelle dai soggetti che hanno diciamo il dovere le competenze ma venga messa a disposizione per contrastare questa emergenza e per andare a costituire una boccata d'ossigeno a fronte di questa ristrettezza e quindi interroghiamo la giunta per sapere se considerata la situazione attuale intenda mettere diciamo nel più breve tempo possibile a disposizione quindi attraverso una ristrutturazione un completamento di questa struttura al fine di destinarla alle cure all'isolamento dei malati di covid in modo complementare all'ospedale di Terni garantendo altresì in caso di necessità che l'ospedale possa continuare a svolgere una funzione di alta specializzazione in gran parte compressa da quella che è la situazione attuale l'assessore Coletto grazie presidente l'immobile definito ex milizia è di proprietà dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale avente personalità giuridica di diritto pubblico è dotata di autonomia gestionale organizzativa patrimoniale contabile ai sensi della legge regionale 3 agosto del 2010 nel 2005 l'ATER ha assunto l'onore economico dei lavori di strutturazione in base al progetto coordinato da Fondazione Agarini per 4.850.000 euro al fine destinato all'attività ricerca scientifica delle cellule staminali l'edificio ex milizia è costituito da tre piani ed il progetto da realizzarsi prevedeva nel seminterrato lo stabulario laboratorio magazzini servizi uffici piano terra laboratorio uffici deposito servizi piano primo laboratorio uffici deposito e servizi nel sottotetto alloggiamento degli impianti immobile ad oggi non è completato mancando i lavori del piano primo che risulta privo di impianti e finiture come si evince il certificato di agibilità rilasciato al comune di Terni relativo ai soli piano interrato piano terra e copertura con l'esclusione del piano primo al piano primo avrebbe dovuto trovare collocazione la self factory cioè il vero e proprio laboratorio delle cellule staminali e anche l'officina farmaceutica di preparati per terapie cellulari avanzate perciò che riguarda la conformità urbanistica edilizia si rileva che l'Ater il 30 ottobre 2018 ha nutrato il comune di Terni di stanza per la trasformazione dell'uso dei locali del piano interrato del piano terra resistenti da centro di ricerca cellule staminali al centro di alisi assistenza limitata al piano primo con lavori da completare da centro di ricerca cellule staminali a poliambulatori e laboratori per la preparazione di farmaci in merito al quale in comune con nota del 29 novembre 2018 ha espresso parere favorevole condizionato alla deliberazione del consiglio comunale i sensi e per gli effetti dell'articolo 124 dell'NTA e del PRG comunale nonché l'autorizzazione esercizio delle strutture sanitarie pertanto appare di difficile attuazione la proposta di destinare la struttura denominata ex milizia al fine di destinarla alle cure all'isolamento dei malati covid-19 per le seguenti criticità la mancata realizzazione del piano primo l'incompatibilità dei tempi di completamento della struttura gara per l'affidamento della progettazione e per l'affidamento di lavoro e esecuzioni delle opere con le azioni da mettere in campo nell'immediato per fronteggiare l'aumento dell'ondata pandemica opportunità di stanziare risorse per l'incompletamento della struttura che non farà parte né del patrimonio sanitario né di quello della regione la mancata conformità urbanistico edilizia la mancanza dall'autorizzazione e l'esercizio delle strutture sanitarie ciò detto sono all'attenzione degli uffici e delle strutture delle soluzioni alternative che possono essere messe in campo come tempistica in maniera molto più rapida e rendere il servizio dovuto a questa situazione di emergenza pandemica nel tempo più limitato possibile grazie grazie assessore consigliere De Luca mi ritengo totalmente non soddisfatto da questa risposta invito l'assessore a venire con me ho richiesto formalmente un sopralluogo a Ater io capisco il gioco delle tre carte quando lei mi dice che interventi su questa struttura non saranno in disponibilità della regione io mi cadono le braccia perché capisco tutto ma Ater è un'articolazione di questa regione c'è un piano che va avanti da anni di inserimento all'interno delle strutture sanitarie in particolar modo dell'azienda ospedaliera di Terni io mi chiedo se risposte di questo tipo possano essere diciamo sostenibili io le invito a venire con me anche da fuori dal cancello invito tutti i cittadini che ci stanno scondando a andare ovviamente diciamo in base a vedere direttamente fuori dal cancello guardare dalle finestre e vedere gli impianti fatti gli impianti fruibili completamente fruibili se manca il primo piano ci sono piani se manca il piano seminterrato ci sono piani completamente fruibili che possono essere utilizzati parliamo di una struttura di circa 3.000 metri quadri le gare di completamento se c'è la volontà io credo che tutte le aziende di questa regione tutte le aziende di questa regione si metterebbero a disposizione per lavorare giorno e notte per trovare per mettere a disposizione della comunità regionale una struttura di questo tipo tutti quanti insieme ci vuole l'autorevolezza per chiamare i cittadini umbri a questo tipo di interventi io questo le chiedo al sessore Coletto questa è una struttura io questa risposta rimango scioccato soprattutto sotto il profilo dei cavilli urbanistici che invece sotto il profilo diciamo prima di tutto c'è stato il decreto rilancio che ha fatto una deregulation totale per quanto riguarda l'aspetto urbanistico per le strutture sanitarie andatelo a leggere totale secondo fatto stiamo parlando di una destinazione d'uso basta chiamare l'assessore Salvati l'assessore Bordoni del comune di Terni e dirgli immediatamente immediatamente va fatta una procedura di questo tipo in situazioni di questo genere non è possibile appellarsi a cavilli amministrativi e quindi è chiaro e concludo Presidente che questa struttura debba essere urgentemente messa a disposizione di un territorio che è quello dell'Umbria meridionale che in questo momento si trova totalmente carente di presidi sanitari utili ad affrontare questa emergenza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti